E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Il traguardo tanto atteso nello stadio dove tutto è cominciato. 18 novembre 2012, il 19enne Maurito scelse una gara speciale per il suo primo gol in Serie A Team. Lui, figlio di Rosario, città che come poche conosce il significato di derby, mette la firma nel 3-1 della sua Sampdoria sul Genoa. Dopo 10 gol con i blu cerchiati, il passaggio all'Inter, che scommette su di lui per il dopomilito. Mauro cresce alle spalle del principe e finisce per conquistare la maglia da titolare e a suon di gol la fascia da capitano. Da Genova a Genova, il conteggio si era fermato a 99 tra problemi fisici e fatiche della sua Inter, ma il Ferraris è il suo stadio anche da ex. La sua rincorsa! La rete! 2-0 Inter! Mauro Riccardi! Gol numero 19! Riccardi è il sesto più giovane a diventare centenario nella storia della Serie A Team, ma l'ultimo era stato Altafini più di 50 anni fa, un traguardo che ha stuzzicato la fame del puntero argentino, che prima dell'intervallo ha aggiunto altre due esultanze alla sua collezione, ulteriormente arricchita ad inizio ripresa, per spegnere definitivamente le speranze della Samp di tornare in partita. 103 in Serie A Team, 100 con l'Inter, a 25 anni. Ecco perché di testa, di destro, di sinistro o con qualsiasi altra parte del corpo, Riccardi fa rima con gol.